Attimi di tensione ma tutto sotto controllo con un enorme spiegamento delle forze dell'ordine ieri sera a Caserta per l'arrivo del leader della Liga Matteo Salvini. Con i centri sociali è sceso in piazza un gruppo di immigrati che ha pacificamente protestato al grido Siamo tutti antirazzisti con striscioni in largo San Sebastiano a due passi da Piazza Margherita. Altri erano arrivati per manifestare contro il fascismo e il razzismo processanto il passato. Noi ne abbiamo sentito qualcuno che era lì in piazza che ci ha spiegato esattamente le finalità della manifestazione. Sentiamolo. Noi siamo un movimento che da anni esiste a Caserta. Luttiamo contro il razzismo, luttiamo contro... Oggi abbiamo saputo che Salvini arriva qua. Noi siamo stati a Macerati per sentire la voce dei migrati dire no al fascismo, no al razzismo. Siamo tutti esseri umani. La motivazione per cui siamo qui per accogliere Salvini e dire no al razzismo e no anche al... Lui deve pensare a combattere contro la Camorra. Sono le cose nefaste nella società italiana. La Camorra. Da Caserta è tutto. Lorenzo Applauso per casertasira.it